Ciao Rosanna, ciao a tutti! Io sono Silvia e invio questo video messaggio da Roma. Lavoro come make-up artist presso il settore luxuri delle profumerie, studio recitazione e teatrale il metodo Stanislavski e sono straconvinta di essere la persona che stavate cercando. Infatti vorrei proprio realizzare un mio blog, una mia pagina web, una rubrica dove poter andare a rispolverare la cultura che, diciamoci la verità, si è un po' soppita e allora magari farla in una vena ironica, sarcastica, seducente, l'importante è che sia avvincente. Allora, se vi piace la mia persona, è proprio l'ora che i nostri destini si incontrino e che abbia inizio il nostro percorso insieme. Da Roma è tutto e... Kiss kiss! Ciao!